La Calderia Auto rappresenta i marchi Jeep, Lancia, Fiat ed Abarth con sedi all'Ancusi di Fisciano in via strada statale 88 e in Salerno nella via strada statale località Forni nei pressi della zona industriale. Oltre alla vendita dei marchi appena indicati possiamo dire che la Calderia Auto garantisce l'assistenza manutentiva degli stessi con la personalizzazione da oggi di un finanziamento anche per eventuali tagliandi. Quindi dobbiamo dire che oltre alla manutenzione la Calderia offre un servizio di carrozzeria, una vasta gamma di pneumatici ed è pronta a soddisfare le esigenze anche più particolari. In ultima analisi, per questo non meno importante, abbiamo un servizio di noleggio di autovetture sia a breve termine, per breve termine intendo anche un discorso giornaliero, che a lungo termine con una flotta di autovetture ad oggi di una cinquantina di mezzi tra autovetture e mezzi commerciali.